prendersi cura di sé è un atto d'amore silenzioso un momento prezioso tutto per noi fare la tinta a casa non è solo un gesto estetico è un modo per ricordarmi che merito questo tempo che merito e di brillare non c'è bisogno di andare lontano per prendersi cura di sé farlo da sola a casa rende il momento ancora più speciale è un rituale di benessere dedicato solo a me che mi fa sentire bella dentro e fuori a me che mi fa sentire bella a me che mi fa sentire bella mentre il colore prende vita mi concedo un altro piccolo lusso rimettere in ordine nelle cose che spesso tralascio il letto qualche angolo di casa quei piccoli progetti rimasti in sospeso è un modo per prendermi cura di ciò che conta davvero è un modo per prendermi cura di come se stia e facciamo un tempo per prendermi cura di se spesso e facciamo un'arma di capo di si spesso e facciamo un po' di più Grazie a tutti. Ed eccoci qui, un gesto semplice che rinnova non solo il mio aspetto, ma anche il modo in cui mi sento. Non è solo il colore essere cambiato, è il mio spirito, pronto ad affrontare tutto con una luce nuova. Forse avete notato la mia assenza. È stato un periodo dedicato alla ricerca della nostra nuova macchina, ma ora sono tornata, con nuove idee e un nuovo sorriso. A presto.